Icardi pubblica i messaggi di Wanda Whatsapp, uno dei retroscena era vero. È tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A volte anche le favole Disney hanno un secondo tempo. Ha scritto nei giorni scorsi l'attaccante del Galatasaray sui social, pubblicando una foto in compagnia della moglie con cui i due hanno urlato al mondo di essere tornati insieme. Ma se tutto è bene quel che finisce bene, forse Maurito non ha ancora digerito i commenti maligni che gli sono stati rivolti ai tempi della seconda separazione e ha voluto rivelare di aver avuto ragione fin dall'inizio. In particolare su un particolare retroscena, arrivando a pubblicare i messaggi che la moglie gli ha inviato su Whatsapp per dimostrare la fondatezza delle sue parole. Wanda Nara incinta? Il messaggio di Icardi sui social Icardi e Wanda sembrano al settimo cielo, la mini luna di miele sulla loro isola preferita ha risvegliato il loro amore e la Sugar l'Argentina ha voluto dimostrarlo anche con un dolcissimo messaggio. Grazie per un altro bellissimo viaggio si legge nello screen pubblicato da Mauro su Instagram. Con allegata la foto ma diviana il mio luogo preferito sei tu, per avermi portato nel nostro paradiso. Per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l'ora di tornare con G. In allegato, le moglie di un bambino e un altro messaggio, 2022. Wanda incinta? Chissà se non fosse chiaro, Icardi ha voluto commentare con qualche altra parola. Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello. Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G. E una faccina che fa la linguaccia, alla faccia di chi non ci credeva. Virgola.